In questo anno così particolare, WWF Italia e MaxiZo hanno fatto molto per la salvaguardia del lupo e del suo habitat, agendo in diverse direzioni. 1. Riduzione del conflitto uomo-lupo. Supporto al progetto Pastors per il sostegno agli allevatori sulle Alpi Bergamasche. Supporto agli allevatori di difesa attiva nella Maremma Grossetana. Cure veterinarie e cibo per il sostentamento dei cani da guardiania del bestiame. Acquisto e supporto nella costruzione di recinti utili a garantire la convivenza tra zootecnia e grandi predatori. 2. Riduzione della mortalità di origine antropica. Acquisto e montaggio dei materiali per la messa in sicurezza di 10 km di strade tra Piemonte, Emilia-Romagna e Mulise con il fine di ridurre l'impatto della mortalità accidentale sul lupo. 3. Comunicazione e sensibilizzazione. Supporto alla realizzazione di una mostra itinerante dal titolo Lupo, storia di un ritorno, utilizzata in eventi tematici ed esposizioni nelle oasi WWF. Grazie al prezioso contributo dei clienti MaxiZoo alla campagna Insieme per gli Animali 2019, potremo fare ancora tanto per la salvaguardia del lupo. Insieme per la tutela della natura d'Italia.